Questi scavi in questo territorio sono demaniali ma qui c'è il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e anche voi state facendo la vostra parte. Si tratta di una scansione tridimensionale che verrà effettuata con due stazionamenti, uno da questo lato e uno dall'altro. Le scansioni verranno agganciate assieme e si otterrà un modello tridimensionale ad alto dettaglio della zona. Il ruolo del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara rispetto a queste operazioni fondamentali per conoscere il territorio? È il nostro piccolo contributo al mantenimento della memoria, alla divulgazione di quello che questo territorio è stato in un passato lontano e di quello che dovrebbe essere conosciuto da tutti i cittadini. È un modo per dare un supporto all'università e alle istituzioni culturali di questo territorio che si stanno impegnando in queste campagne. E poi fa parte un po' della nostra storia, non dimentichiamo che la Sesta Spina è stata scoperta grazie proprio dei lavori legati alla Bonifica, quindi in qualche modo continuiamo la tradizione. A cosa servirà poi dopo questa scansione? Sarà utile per cosa? Per gli studi? Per divulgare? Queste scansioni vengono utilizzate per avere un'idea esatta di qual è il cantiere e la posizione di tutti gli oggetti che vengono ritrovati. Il modello tridimensionale è un elemento essenziale per gli scavi futuri, per poter analizzare il sito e confrontarlo con tutti gli altri elementi che noi abbiamo fornito, quindi le penetrometrie, i carotaggi e le condizioni del suolo. Oltre agli uomini anche mezzi all'avanguardia? Sì, li abbiamo messi a disposizione di questo cantiere grazie a una convenzione che abbiamo siglato quest'anno. Abbiamo dato un po' di supporto logistico e materiale a questo cantiere archeologico, abbiamo fornito le attrezzature, stiamo realizzando adesso proprio in questo momento gli ultimi rilievi e abbiamo dato un po' di supporto materiale che comunque ha dato una mano per raggiungere gli obiettivi che poi sono sicuro saranno restituiti a tutta la cittadinanza.